Torna ora, ti è po' attendere a fianco di un mincello e torna ora del mio bar. Speriamo che almeno voi la mia famiglia non lo saprà a fretta, ci sono le garvagna di Tapolin. Ho già il gioco. Vieni, vieni, reggiatelo! Reggiatelo, scebbio, dai! Pian, eh, pian, reggiatelo, reggiatelo! Non abbiamo più due, ma reggiatelo, già mai. Buongiorno! Buongiorno a voi! Ma ti vado a medizio? Oh, già che sono l'aglio, ma con tre voglia, eh, ma mi usavo di ciavonamela anche tenne di birre e di fumare. Ma io ti ho mai visto beffardo e non capire l'evo di decenni dell'anno, eh? Ho fatto molto. Quando io moro, gli hai trovato un luminare da me decenni. Ah, dopo e più. Scommetto che la varietta in tozzetta, l'universale, l'unica pastiglia che aveva tutti i mali. Ma va, ma ti apprengo tu? No, a me io fai me fa i puntori, se qui. Sei là che fanno l'urto, sistemi di peso in farmazia? Sì, sì. Che sistemi di peso? A me, a funzione, eh. A dita verità, lui non ti senti niente, Gianchi. Oh, io mi sa pazza anche lì. Se non me, l'universale, una bella panetta, ti passa a tutti noi. Ma no, a me, a me che fanno un bezzo mio i puntori, eh. Io ho detto che io ero pitida nei per anni fa, eh. Che be', un rosa da costuma? Ma voi, vengo a poco bere, fermo. Oh, io, sa pazza anche lì, se stiamo in peste, coniù su po'. Eh, no, cura, vuoi ben forte. Dove? Fora tu e ti va lì. Ma che dove? Ma voi, ma quanto ti è ma che tu i piedi? Pie. Pie, pie, se si passa che sono i piedi. Ecco, io ho i piedi. Ma che gli entrano i piedi? Ma fia a te, apri il sistema di peste, anche mai l'universale, la panetta che ti gava più di mai. E chi ha detto? Ma io non capisco. Ti già dottelo, l'universale. Oh, la panetta che ti gava più di mai. Lo ma la scena, lo ma la testa, lo ma le spalle, lo ma le cose, lo ma le vele e lo ma le piedi. Oh, ma i tuoi pontori ti fanno più mali i piedi? Ah, i piedi per i pontori. Oh, ma devono diretti o lo sennò? Ah, accetta l'elena, tu ti è diretti o mancina? Ah no, io sono diretti, eh? Eh, dunque devono diretti. Oh, ma ora, porti pazienza, ma vuoi spiegare anche lì, il sistema di peste? Avete, lo segreto è te, devono diretti. Oh, ma chi è il peste? Ora ti lo spiego io. Visto, calma, vai la manetta, me le va, ma ti lo spiego io. Lo peschi, ti lascia un piccese sulle piedi, devi anche te piantare dove fuori a te, pare lui, io te la senti proprio, ti è capiola? Oh, madonna che mi ha ronto più con la piutta. Le ben pezzette, le due meure che ti fa prendere l'universale, che lei è l'unica. Panetta che ti ha gavati lì, mai. Oh, madonna che ti arrivo io. Trinché anche qua, che non passa più lì, mai. Lo fai già benzo, zi. Oh, è una buona medicina. Dura a capire, eh? Che l'ha già? Che l'ha? Oh, buongiordino, oh, buongiorno. Tallo, zi. Vuoi parte? Rienche del reclamo, ma ginga. Eh, voilà. Ma tu hai avuto a prendere e allargare via con tu, in questo senso, con tu lì, ma volai. Ma tu non ho pa, ma non mi sembra quello. Non è che lui li porta via, io li porto, ma veramente, sempre volai lì. Ma, pura, tutto sorprezzato, è un'altra, 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 che mi verrà un'altra, 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 un'altra. Se no, tu mi metti una spuma per piacere. Ma hai sentito? Non mi ha detto di più, mi ha detto. No. Non mi ha detto che c'è bar, sport. Sport, oi? Tu sai che c'è di avere anche un membro? E tu, caro mio, ti ritieni un membro? Io penso bene, perché? Hai domani. Tu magari tu sei un po', ma mio padre era un grande viaggiano. Ah, domani, per me tu vieni a bere la mia spuma, è gratis, eh? Ah, no, è gratis, non per esempio. Quindi vengo ancora, se ti ho un membro a diretta. Domenico, chi l'è se c'è? Lo gran, gran membro. Come? No, no. Tu lo sai qua? Perché l'è? Se c'è, la vista, la prima persona che è in grado di direttare la percia su un piano di ieri. È il più grande membro di questa associazione. La mostrano tanto a tutti. L'ha fatto il film, pensa. Pensa. Lo sento che te io? Eh. Io ho la spuma, la chicco, il lavandino. E adesso vengo che se tu ti stesse mai, come un membro a diretta, siete chiusi e te sarai. Ora torna a lavorare. Sì, non lo so, vedi. Uno va, attendiamo. Sì, va, va. Sì, va. Ma vai te se tardo. Ma vai te pulisci, eh? Ma vai te pulisci, eh? Fa fai pulisci, eh? Ma. Che coraggio. Ma vai te pulisci. Questa è corte, eh? Oi. Oi va. Non c'è una partia. Che buona. A che giù è? Scupa. Scupa. Tu giù sei bella? No, no. Scupa, scupa. Siete di viola. No. Chi arriva? Ronto? Pericle? Te me sentiii pericle? Ma non è possibile che ti racconti gli occhi, come una l'entrante di una buona Noella. Ma pericle? Renga a fare. Non mi rispondo mai. Chi è qua? Che devo fare? Se un gran bar di un membro sportivo gli è già mei dei campi. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, stai lì. Ciao, Dino. Come l'è? Pianto? A verità. Io ho tutta la pelle di gelene sotto la città. Ma il capitano è chiusa. Io ho una Noella. Una Noella è chiusa a far creare Dino. Ma ti raffiare, Stellina. Ti avevo passato la città dove siamo un mariaggio. Ebbene, ho capito, ma ti porti qui se tu e Dino. Non mi so poi, io l'ho mortata la mia fanna. Ma ti assurdo che è la mia fanna? Lecchiare. Ma Dino, io ho una Noella incredibile. So, te so se che mi è capitato, Dino. Che le capità? Se ti dite che io ho una Noella incredibile, te so se che mi è capitato, Dino. So, so che le capitate. Lo sarò. Ebbene, Dino. Io, a prima del mese, l'ospettare. Come l'ospettare? Ma no, l'ospettare. Scusa, ma io ho visto la piazza di questa cretina che mi è veniva davanti all'ospettare. A prima del mese, fino all'anno, io l'ho permesso di conduire, Dino. Aiaia, ma che bella Noella, brava! Ma già che tu puoi dire che non è una gran bella Noella? Vitto Dino, che va a nata di me io butte che te sei a setta cantina. E se è nemmeno a pru, vanno in coca, prende giù la tua ricotta. Va bene, setta te, arrivo sopra. Se fa che tutti lo sassion che io gli ho permesso di conduire. Oh, pure nemmeno. Oh, mio Dio. Sembra. Non puoi neanche mai sorprese. Dino, te sai che puoi più? Mi fa frantino a tutta me qua, sì che sono i miei e te. Credo che. Mi sono composta, che Patricia, la mia ammigia, Uwe, le tolo per noi, la fa permanente. Se non è l'unica giusta da dire a sì che sono i miei e te, le depasso i miei e te, Uwe. Ma Dino, ma sai che te due? Io fu più bella che creare. Perché se non me, se tu vuoi passare a venire a chiusa, ti fa prendere la per noi, là. Sono d'accordo con voi. No, no, no. Su, come sapete il ripetitore del Radiomaria, perché non c'è te, le campi non è già me. Ebbene, se abbiamo un po' telefonato, se deve. Pronto? Patricia? Scopa! Dino, ma posso dire che se non c'è te, io sia già me, diciamo. Pronto? Patricia, ti senti? Ma chi ti è? Ma come anche io, ti senti mai? Io, che sono l'estera. Ah, chi è tu? Stellina. Già che sono io! Ma che piacere, sentite, Patricia. Pensa a te, le ben un'ora che ti creavo per mai. Escusa a me se ti derringo, ma in settimana mi è capitana Noella incrociabile. Una chiusa a far creare. Io, gli ho toccato la pelle di gelene, Patricia. Ma tu sei anche questo da Penoira? E' un po' che ti credo. D'oro chi è che per l'angir. Patricia, mi è capitana incrociabile. Una Noella, una incrociosa, non c'è. Ma ho scoperto che io che ti devo tornare a Giobetton e la città di gelene. Oye, lo collega a me. Ma no, ma che ti viene a dire? Ma siete, secondo me, sono frante Noelle dell'anno passato. I miei sono decisi più ben più importanti e, Patricia, se no, ti derringerò qua. Allora, da permanente. E se anche questo è capitato per derringere me e in te anche fu la permanente. Ebbene, tienti, ma che dura, eh? Patricia, io prendo per me di condotto. Ma no! Ti hanno donato per me e città su cattro gomme, eh? Ma se anche te due, città, ma per me da città, non è un po' a prendo l'anno passato, ma te l'eri con te. L'eri con tu be' giovane, tui pei bianchi. Ma chi be' giovane? E' pipato la ciazzetta. Tu da ciazza, ti hanno donato. Ma no, ciazza, ciazzetta, non ti interessa, tu dell'uggetta. Io gli prendo per me di condotto a Patricia. No! Oh, io lo per me perché da macchina. Ti so, se pericolo, pericolo, come le sa te fei di setta chiusa. Ah, le temesco e lo perdio sonno. Codoro pa' mai, che la tentotti noi deveme tornare il mio pericolo. a me per cominciare, ma vorrei bene, magari, con una macchina, buv'em più pittida. Io, se Fran devo dirtelo totta, gli ho domandato una delle limousine americane, no? Sì. Buv'em più pittida, e tu devi perdere ma più c'è quattro carriere. Ma più c'è che conta, le conti l'ha pensato, se c'è che tu, no? Oh, io, ma io te ne ho niente di un'ape. Ma c'è anche un'ape, più c'è, io, c'è anche ammogitare. Ah, vei, le frango è una chiusa come vielle naturale di la macchina. Le tro belle, vei, se l'ho messo in una chiusa e so c'è. Ora, tutti entre noi c'è anche una chiusa che io, e i panko fanno ben capire. Tu sei con te che in macchina e hanno i trinzocchi che te piste, no? I piedi, i piedi. Tu sei, no? E ma io, i panko fanno ben capire a se non c'è il servizio, non c'è. Ma non importa, io mi scicco con tu e gli ciappo, gli ciappo con tu. E so c'è, le tue l'omere, non mi ho darei maestro, te li hanno detto, no? Su be' giovinato i pei bianchi. Ma vuoi che tu hai un ricordo? Ma no, no, io, cari fello Kurt, ne ero giunto i pei neri, già che le ventano fei. Oh, ma tutte le lezioni che passavano avevano i cittadini più bianchi, tu credi. Se non me, se te ne hai venire come un corvazio. E più ora, soffrano venire buona. Buona? Ma già che tu puoi ben dire, soffrano venire buona. Io non manca di gente come me, se te fabbriche che fanno queste macchine, ma i farò un patto te sei follerate che fanno. Ne volem pregiare decimare io con tutti i piccoli bettoni. E tutti i cittadini per la vita, a me, mi sembra fran di essere accettati davanti a l'arbre cialente, scusa, a far creare. oi, ma Stellina, ti vuoi un cittadino? Ma com'è un cittadino? Dino, cittadino mi chiede. Mi chiedo che sei proprio la mezza di ieri, a settore. Sei meglio che l'ora che era ieri a settore, Patrizia? io sono sicura che l'ora che tu gli uom torni in miette. Ti potrà bene? Ma tu puoi dire che l'ora che pericolo è finita di lavorare. A me mi fa vittura in miette. Ma scusa me, se ti chiede pari, bressa, ma mi fa io sono troppo riuso di avere la mia nuova macchina, Patrizia. E scusa me, ciao! Ciao! Ma lena, c'è l'antenna. E se attrezzando il porto, io padre c'è. Vittu Dino, dove mi canta Dio? Che a me? Mi fai? Lascia, Stellina, se tu orli a me. O per me, ma soprattutto perché pure io sono del re. Ma no, ma posso più trovare un bello di te. Ciao Dino! Va piano, mi raccomando. Ciao! Ciao! Sì, senti che devi chiedermi a te, Dino. Che non ha mai io, che è stato Tutti i miei te lo soviò perché... Peccere tu. Ciao Dino! Patrizia, che tu farei? Io e io te donò la biglietta della chiera. Vabbè. Ciao Dino! Entra me! Tutto te ne rende a me, contro il muro pezzo. Fura, il mattino facei ciò che si crappò. Ora fai una fredda che io sbiettano e mi mettere un palto. Tu mi fai un buon palto. Punto! Allora, torna a sé. Ti ho capito davanti, eh? Che è lei che ti ho capito? Ti ho detto che se tu puoi raccontare te fai un membro. Dai, però torna se ti ho un membro a dritto. Dove chi le zetta? c'era un po' più tanto. Oh, 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 oh. Da te leggiula, eh? Leggiula su manifesti di der reelezione. Caro te. Su manifesti di der reelezione. Hai sentito? Caro te. Ti ho sentito che te io raccate un cedale. Ti piamo, eh? Ti so vedi un po' che io lo punch Mi prendo con un guarda di sudatelo, ti capi? E te so vengo con un co che se tu stessi mai, come membro ad reit, se te chiusi ti sarei. Poi ora tu mi sembri che è un membro molto. Ora torna a lavorare per più agire. Ma hai passato l'hotel con tempi a forza. Non so tanto. Ma credo. Chi gagne? Io? 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 Va bene, va bene, gagne tutto dove? Fai io le carte, perché ti è qua la buona. Io i fumezzo miei. Non ho proprio fatto? Sono un po' più truciungo. Oh, Patti! Buongiorno Dino! Buongiorno! Ciao! Ciao! Com'è lei, Patti? Tutto a posto? Ma... Ho tutto il problema. Ti sapete, io ho trovato tutti gli occhi. Oh no, l'entra? L'entra è arrivata. Che tu lì? Allora ho trovato un postino, l'ho fatto una battaglia di pregio, di perdure. Che vuoi tu? Ma... Ah, vabbè. Avete, l'arrivo. Buongiorno! 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 Appunto, ciao! Ciao! Ciao, Tulli! Buongiorno! Buongiorno! Cosa conta Dino? Ma rende più e rende mente su chi conta un liceo di gran bussalata dunque. E voi? Ma... Buongiorno! Buongiorno! Ah... Appunto... Noi... Nèm... De... 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 Ah... ... apro, Cosa è Noel? Che è la capacità? Se sei tenso appunto è entrando a te dire Io devo lavorare anche appunto chi è che ti ha che l'abbiamo mai oi, se lo sai era per mancare di Dino ma che è la capacità? Ci sono due che appunto sono entrando a te dire Dino noi ci siamo a te che l'abbiamo mai parti Hai capito? Sono già un buon bion e ora ti sai che l'abbiamo? No, però sei un po' di l'abbiamo che l'abbiamo? L'abbiamo appunto l'abbiamo 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 tutto ma sei fa fare un brindisi e betano appunto buon vero Tullio c'è un problema lettura che bello secondo me la loccagno più tue che dite bu 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 due vero e e e tu più tue due 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 ti è trovalo lo merlo come sarebbe a dire lo merlo ma te oi lo tu hai appunto ommo ah bo te sei qua e trovalo sullo giornale no io ti può può io ti può può io ti può portano per posta ora ah se le mappe senti e poi manca dei talloni hai un membro postale di piume e rosa che ne porta per ora se vuoi che ti entri troveri e rito da maria ma te poi fallerà dino lei trova sullo giornale voglio malla te sei venuto con il giornale e conti un totta sa l'esta d'annunze io i le ho conti un totte nooo da bo da bo e venta se pa un giornale le io a giusta mhm i era scritto ommo o marierei femmela rrrrr rrrr rrrrr da d ma d e mi ci ti a intra d Eh, guarda che di partimento, Volevo dev'essere iniziando un progetto fisico. Tiando ancheскую farti che cosa dalle pi più pi Tu faillo senza? Mai più pi più Po che finisce un progetto fisico perché io per un po' di euro marierò finché te. Soprarrò vero più. Ebbè noi, ben pezzè, gli mariammo sui pietti, messo da me. Che vuoi te mai cos'è io noi di vero? Piaggitano. Appunto, se le rinchezzeng, te va co ben, eh? Ma di vero, come si è? Ma non pizze, lì è del cristal di Bohemia. Roba del lusso. Pensa che la cofina è lo ter di cristal. Allora. De, appunto, Bohemia. Frampare. Con l'appunto ter di cristal. Frampare. E' più. Ma che c'è, non pregiamo un po' più della ciamma di bocca. Ma com'è la ciamma di bocca? ale. Ok. Ma quanto è giorno, Noi le vostre mazze, le tattane brenghe da rula, le nuobbio giapponesse, le sosse, la gianca manca da pericure. Pe, 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 appunto, forza, le del pipì, le del pipì, le del pipì, le del pipì, lo pipì, lo pipì, lo pipì, lo pipì non ci sembra. E' più l'importante, l'amor di chi è sulla piega. Vabbè noi, ammà o mamma, ma vedete che sono un po' più fuori, eh? Deve anche mariarlo, gli preciagli è chiaro. E' una vitello del lui di vero, gli ho fatto un po' di cravatina, gli doi. Ammo, se ti è più delicato, ci facciamo di voi, ti è molto un'ora che ti fa un po' di dentura oltre là, eh? De, 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 appunto, è una, de, 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 appunto. Dino, ti devi una dentura, eh? E' un po' di dentura, eh, vabbè? E' un po' di dentura, eh, vabbè? Ma le papi non è dentura come se voglia. Le un bijou tedesco, marca, dendefer. Vabbè? Avete? Le un che beve di cussurì ed è stata con lui. Di sta che venga voi su tupè. Lo tutu! Lo tutu! Lo tutu! Lo tutu, tu! 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 Tupè? E' anche il Pietrolo! E' una grande moda. Io lo vedo in tutto. O non lo muderei qua. Oh, oh, ssssssssssss. Ssssssssssss. Ssssssssss. Sei, appunto, la moda. Oh, oh! Oh, oh, ssssss. Ssssssssss. Ssssssss. Ssssssss. e ti insegnere ragione per essere almeno. E anche, e poi avete, che le pappo in tupè come se voglia, eh? No. Le te fai, le fibra di verro. Dicci che io gravo te a noi, e ti chiedi pan canale a televisione. Io, io bravo, io faccio la testa fura, e ce la puoi tornare tu di canale, ma mi è capo l'avola, eh? Lo bello. Dino, le pà un membro di cello suoi uomo. Mi soffra un po'. Adesso tu puoi che io, di grattuna e di bocciaio d'oro? Io è una grantecia di pioi. Di pipì, di pipì. Di pipì, 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 di pipì oi? Di pioi, ma caro Tullio, ci sono proprio di pioi come se voglia, eh? No. Ci sono di pioi di importazione del circo russo. Pensa che gli hanno così in un libro e lancerò te l'unico. Ah, ma li coniesce, li ho un reclamo, lo fameux circo delle Putin. Pranzo là, pranzo là. C'è tali? E' bene. E' bene. A parte di piti di foto, torno a te dire che la c'è... 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 C'è un ragione per essere a ammarlo lo tuo uomo. C'è... C'è... E' più... Io... Puoi dire a tutti, anche voi, che tanto so pensa a me. Ah, beh... So a me l'ha un buon carattere, eh? Perchè se tu chiedi a tutti, anche voi, anche te sopra. Ti conveni, io mai c'è stata una focciosa nua. Eh, Dino, pensa pa', eh? No, no, ma... Eh... Non mi dobbiamo rin, perchè l'intento, rin, anche io. Oh... Oh... No... Le... Sarà papi... De co... Cos... Cos... Appunto... Short... Oh, le short come una bella! È più tanta, me sentisci a sapere, o porrei più n'accata a rispondere. No... Sarà papi... Appunto... Come... Come... No... Tuglio, tu non mi aspeti e se tu no come te! Ai 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 ai... Chi... Chi... Appunto... Sarai seco... Brr... 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 Ba calm... Ehi, un po' Tuglio. Il mio uomo, scusa Tullio, buon buon, buon, buon per voi, mi fai prendere, perché io l'ho impiettita a Sedan, rende il greco e ha prescansi. No, l'està all'ospettare? Ma non l'està all'ospettare, io non mi fai prendere i raggi. Oh, dodo, 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 domani per aprire i raggi e ti fai i cerchi. No, io ho il sangio dell'olore e poi ti mando le mie tappie e spero che io controlla solo la marmita. Ah, è una bella coppia, eh? Ebbene, me fai lo prende perché io fai i raggi e poi apri la le medicine quindi chi l'ha inviuto in mandone e chi può un pavardarlo perché ha inviuto lui indevero la cambina e bocca se dopo tre ciosette pare, io non consiglio di domenare in un altro posto. Eh, 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 tu, 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 tu. Io ando e mi do me la giù per tu rim, a te gli stavi di manda Fiat e te te li e io con te fate terrazza a frizione. Oh, bravo! No, patti a te! Ma ti ha fatto io provare l'universale. Le supposte. Le fanno quelle supposte, voi. Mi chiedete per a pa che gli ha provato di gli fanno gorzellare il mio uomo, ma l'ho mai voluto non sa' perché sono troppo brusche. Vabbè. Vabbè. Prego a me non può. Penso a me che ora mi fa mettere i miei posti qui. E devo anche fare adesso. Non può essere te. Ciao, patti. Ciao, Dino. Mi muovo volontà. Ciao. Ciao. E... 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 Vabbè. Vabbè. E... E... In Spider-Man. E... Cattordze e cinquanta. Catorze e cinquanta. Due veri? Escolta, ci c'è un po' più di due veri di vino che allongevo in leva, che dungono l'Aufonso. C'è, c'è Maria. C'è il cristallo di Bohemia. Le vini sono ben particolari. La venenza di 2 mila e 2 giorni. Poi ho sortito su Marcia. Lo più... Lo più... Lo più... Lo più... Lo più... Di pie. Paga in stoccheio, eh. E voilà, torna tu a sentirmi il rosso. Lascia il mio piaccio, Tuglio. Le io che appunto... Mi piaccio il padre di te. Stai ben conto, ma so vieni che chiudano l'ora, eh. Allora, torna tu a sentirmi. Ti è tornato fisso, eh. La patita, la patita. No, la fisso ne hai mai avuto. Ecco. Perché io porto a posto e sto parlando fisso. Ti sei rento? No, non sei rento. Sai che ti è contente se... Quando mi... Lo tengo... Lo tengo... Le conti più valore. Io non so se le stai grossi borrile all'ora. Frida di foda, c'è di vento. Ma io gli ho una fritta da cosa che ti ho fatto. Tu mi fagessi un buon vove chat. Mi fa perdere il tempo. Aspettate. Allora... Niente. Che ti è? Avete visto che tu hai segnato di te? Mi hai messo bene un po', tu hai segnato. Che ti hai fatto se ne arriva? Torna utri. Tu hai messo bene un po' di te? Quanti è? 34. Tu sei che ti arriva a te? Che ti stai troppo. Avei t'avei se ti conne... Ce, ce. Avei t'avei ben? Tu ti connei? No, non ho rispondo. 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 Che ti ho rispondo. Ce, ce... Non ti faccio con un incidente. Sarai, eh? Ce, ce le succo... Non ti pia te fanno... O fila via! Sì! Ehi... C'è un pietro, e... Ehi... Allora si mette per i postini, tu hai visto? Si 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 50 Santime è lì 14 Manca Ciao Tullio La quintura è lì L'altra continua a ritardare Sì mi fa fatto tutto a me Oh l'arrivata Buongior Buongior C'è lì La marca è tu che uscì sul murro 2 euro è tardi, non c'è un po' di più, se ti hai già preso il tuo aperitivo, eh? Già, 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 ma come è lei che ti pari di Grammavella? Ma lascia perdere, va. Dunque, tu hai già preso l'ora, le marco ecche. Mi fai pulire presto per andare là, spero che venga qualcuno che... qualcuno ne ha propagato a te, eh? E non mi hai fatto il tuo aperitivo. A me mi fa tornare a correre in me e te. Ma, commenta, fa tornare io tra voi la penna? Ma lascia perdere, le torna la cazzola è fredda. Ma c'è anche l'unica che le riuscite a trovare una penna che le pavone trugasse la da sé. Eee, scoppa! Le pavone deve fare rec. Sì che, lo del lune su dei venilo tubista, avete tagliato il tubo. Poi lo del marzo passano a raffacciare il fiù del gombreio e canne. Ok. Poi tre coppie se non ho passato l'elettricista perché ho dei stimoli sui contatti che non puoi capire. E io mi faccio già l'ora. Allora, no, è che caffrice però, funziona ancora. Fai un costo di lavoro. Lo del mince che sei mia e te io, capeta re. Ah, e un altro lavoro? E fa mettere in su deutra la spina da piena. Mi raccomando, fermate bene. Oh, 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 fermagliela con con te. Ciao, 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 ciao. Ciao. A me. A me. A me. Ma, intanto è continuato. Eh. Buongior. Buongior. Eh, scusami, le che non puoi mangiare e che? Si fa. Eh, in bar, in restaurant, se non c'è, se non c'è anche senza te. Ma le domandavo. Che maniere. Tu che puoi settare? Tu che vuoi? Come se piacere in se bepposti? Se se mi gioco bene. Beto te? Come tu? Eh, scusami, puoi anche se le mie racchette, eh. Ma che come te faccio in città, eh? Eh, già che. Io me seto, eh. Oh, io. Sculpa. Che frambi posso arrivare. Porrai alle... Ave. Peceretta. Porrai con sodeva per piagir. Sculpa. Ave. E' una lunga, è più l'ha di uscita. Cosa? Sei già? Eh, no, lascio me tenda a vita all'extra, che portamela una seconda fe. Ma io so fa che pressa. Voglio lavorare. Scusa, t'avevi tanto depressa, che puoi venire ora che io ho ha pressa. Perfetto. 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 Grazie. Ah, e mi raccomando, che la porzione di pasta passi il paletto che non ha chiesto di più o di più. Deve o di più? Ma già, che per le calorie! Calorie! Ma io proprio come hai delle allergie e delle intolleranze? Io vedo un regno, se le pare. Torniamo a che sorte? Ma che allergie e intolleranze? Calorie! Sei vegana? Che schiva, proprio vegana. No, no? Le calorie! Ma devi fare come sotto a t'avvertì. Eh? Devi fare. Dezze chiecca. Vuoi fare un'attore di 4 kg in 4 giorni. E il mio fisico, per sopportare il duro allenamento, la manca di bruciare. 3 mele, 210 calorie peggiori. Sì che hai fatto il tuo conto, no? Mele, 210 e zincappas. Francia anche le commissione, no? Dunque, te puoi se fanno piagi da là e... E' una chiusa, va? Che affettina? A 6 di pallet. E appassi il paletto. Ma il paletto l'era papà stassoita? E io? Sì che gli hai detto. Ora, le gaggio a te. Sì che... Antipasch, moccetta birranciue. E un'atto e pasta soita. Un palletto vuoi fagiolini? No! Io te fermo già. Vu che il palletto ha 121 calorie. A differenza di un palletto con anche 177. E vuoi che i fagiolini non hanno proprio due uoi. Faccio il conto. Eh, merci. Tu lo porterei a noi? Non lo portano. Duce, riporto. Mi costa in mente. Sì. No, no. Ma sarò fuori di ben 4 calorie. Fa dei fagiolini. Fa dei fagiolini. Fa dei fagiolini. Ma come fa dei fagiolini? No. Ma la sua e la verdura che gli hai, vuoi? Vuoi le testando. Demande di un mingio senza chiudere. Sì. Sì che è l'unica chiusa. Che è? I sogni fagiolini da giù e spassò. Un po' non devo dire. Ah beh. Tornare a sciudare, eh. Un po' più fritte. Senza il birro? Senza il birro, non so d'odore. Senza il parmigiano. Eh beh. Non perché se tu fai un gorzellame, ci fagiolini. Se vuoi un parro, un cacchio, un lato e un giorno fa male la panza a cacchio. Ti fai via. Oh. Ma c'è punto. Gava via moccetta e fromaggio. Tornare a seconda. Tornare a seconda. Non capisci mai il rai. Sì che? Eh beh. Se vuoi il rai, ci fagiolini è che. Ti fai via moccetta e fromaggio. E poi ti fai via 50 grammi di pasta. E poi ti fai via coariè d'altro. Ti fai via merluts. Merluts? Edì che la rècomandala lo merluts. Ma jamé. O merluts. Udeye genta vofele. Ma lofele, l'irrappare è genta da lo collè. Ebbene noi tu sei pa' gazzame se gli eschi pezzi dei fagiolini da giù e spassare. Gazzame, gazzame. Ma ti vuoi passi i fagiolini? Ehi dotte, li poi min già. Renche se gli è o merleuze. Ma io de merleuze ne hai pa. Ebbene non che tu t'ha posto. Di grazie. Escuta, se lo metto ti è capì, renche. Poi anche torna dita in coppia, se è sura. Jojo, c'è di te? No, Jojo. Di te? Donca, antipasche senza mocetta. Antipasche senza mocetta. Pasta solita, dugetto. No, 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 no. Pasta solita l'era poi netto? Ebbene noi se io so pre. Mocetta, pelette e fagiolini. O peraltro io so pre. Birro, anciu e merleuze. Ma pa di fromaggio. Donca patta puoi arrivare dugetto. Peraltro deromigia. Quattro banane. Che gli hanno 340 calorie. Du secco netto e patta. Ma lei è perfetta. Ve fuo cattro banane. Ve gli agnacchi, vinzò del limone e del secco e la finisce in te. Ma che è chiva, papi del secco. Ma ve lo giusto zucchero di canna. Ah, canna, servete, eh. Due pa di busanà, mi squalifico un due torco di vande commenzale. Ma due pa di busanà. Ebbene non che te mingio zecattro banane. Ma, mai mingi zecattro banane, gli due c'è quei calorie, ma non è necessario. Sì, che... Torna a dire. Antipasto. Per me, una bella pasta solita. Più. Merleuze, fagiolini, Cattro banane, griccini. No! Fate griccini? Pecce retta, i due te pade fagiolini. Ma com'è fagiolini? Ma li rende più buoni i fagiolini o le merlette? Ebbene io le merlette. Ma patto le banane, e ne ha catto le buoni, e ho zecco. Ma scuta, Aline, li rende più buoni i fagiolini. Ebbene, non che te mingio zi maledettissimi i fagiolini. Perfetto. Ma senza l'antipasto, ti fa capire che una banana mura la 92 calorie. E se le veda? Io lo sa pa, perché io li mingio anche in mure. E mura la 92 calorie. 92 calorie. E sono troppo, e la mingio pa. Dunque, puoi tornare a dire? Mi fa caso per me le foglie, tu io. Io caso per me le pazienze. Dunque, niente. Antipasto senza mocetta. Buon ranciù, una pasta assolita, un tocco di pollette, senza fagiolini, un tocco di merleuze, un tocco di fromaggio, anzi, sull'anna. Una banana, un po' di vino, ma devo. Però se ti è più lento, mi porta 4 banane. Una pasta assolita, ma non di fagiolini, ma peceretta di gadgetè, che l'ho presa. Sì che, sì che pregene, perché comincio, non si che col confondo. Pasta assolita. Dugetto. Se fai bene attenzione, pollette, felette, o merleuze? Merleuze. No. Fagioli? Dopo vendire. 4 banane, grigli. Perfetto. Sì che, antipasto, più ranciui, senza moccetta. Apri, pasta assolita, 4 banane, un tocco di fromaggio e grigli. No, no, e te che toli banane, vuoi pa' di fagiolini, vuoi pa' di antipasto, te ceciose che te le tue, peraltro te me porti. Una banana, un tocco di merleuze, e pa' di fagiolini. Le tue chiarze co. No. Che maniere, che maniere. Ma escuta, ma tu, ti sei pieno di dieta tu. Ma come te te non riesci a incertare, eh? Avete, te vuoi? Ah, perché io lo gran piagino conoscere voi il tuo bar di meno. E adesso da, che è, pari, addeggenon, addennan, ecco, finché a cena, mingio più rinca e mai, degiline, gioine. Ma dev'an, ste vieni a voi mie? Eh, te fai vieni. Come sappiamo? Vediamo. Di, 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 Dino! Di, 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 Dino! O, 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 o. Di, 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 di no? Ma di, 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 no! Arrivo, arrivo, che tu bravi, ma si fa la massa a me età, che ti è dappare a fare ah che pesce ma appunto sembra che tu sei una più 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 drulla cornura non è passata a me età da te vedi a dire che tu vuoi e appunto puo puo portate lì tatà 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 per sciudare la fenne io ah vedi Tartuglio, non è grado di aver fatto i fai trovati per me ma ora la convencavo e io ho tagliato la caldaia la gazz ah lo gazz ma tu che ti fai tornare a sé, l'hai chioduto? ma tu che ti fai? io c'è stato un po' là sulla dreta per si ca' apposta con la vecchia dì no no che ti fai? io non ho le corne ma sei un picchiappo che pesce ma tu non è te che ti ha appreso l'universale ma tu ti ha appreso? e poi? me la dono la tua fenne prendiamo un po' a Dezembro, prendiamo da questa ora sortiamo sta passando? da te? 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 la tua fenne è la chicca la nostra ciambrera è la 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 ciambrera è Valentino è Valentino è Valentino è Valentino no, noi dobbiamo ringraziare il più grande membro del nostro che è il mio frate Valentino bravo ebbene speriamo che torna a venire l'anno prossima e ora ciò stanno ciò stende tra Marcianzio e Muebio e Perechè del Re e più lasciampe la parola Ibeghi o De Valtornencia chi chiudono la sua re allora chi viene? ciao